Ben trovati in Axel Technology, sono Enrico Vaccari in compagnia di Christian Sighinolfi, sono il direttore commerciale di Axel Technology, Christian è responsabile della ricerca e sviluppo per i prodotti radio sempre in Axel. Oggi vi parliamo della nuova gamma di processori, un prodotto appena realizzato, la linea prende il nome di Falcon X, la serie Falcon X che dà seguito al precedente prodotto di Axel Technology ed è un nuovo prodotto che abbiamo realizzato soprattutto uno per l'ammodernamento tecnologico che è in continua evoluzione e due per venire incontro alle esigenze più moderne che sono necessarie in qualsiasi emittente radiofonica. I nuovi modelli sono sempre macchine completamente digitali, hanno come caratteristiche fondamentali l'introduzione di nuova connettività per cui adeguamento alle moderni tecniche di trasporto dei segnali audio, quindi audio over IP piuttosto che streaming ed inoltre hanno il grande pregio di essere molto versatile per cui questa stessa macchina può essere utilizzata in diversi contesti sia per l'FM che per il web che per il DAB e quindi HD radio, quindi sia trasmissione analogica tradizionale che le moderne trasmissioni digitali. I tre modelli si chiamano Falcon X7, Falcon X5 e Falcon X6 sono praticamente differenti livelli che vestono le esigenze di target di mercato differenti, per cui partiamo con il Falcon X5 che è questo modello nel mezzo, semplicemente sotto vedete un altro apparato di cui parleremo più avanti, il Falcon X5 dicevo che è un processore audio 5 bande che può essere corredato poi di vari moduli, stereo generator, streaming, ingressi e uscite IP, changeover audio per gestire i vari necessità di segnali di ingresso, oltre a una piccola funzione di monitoring che può essere aggiunta come opzione e oltre a un modulo RDS piuttosto evoluto. Ho parlato all'inizio sull'X5 di moduli di modularità perché ciò che distingue invece il Falcon X7 che è il fratello più grande della serie è che tutte le funzioni sono già accorpate, quindi non si tratta di acquisire opzioni a parte un paio che vedremo dopo, ma questa è la macchina full optional che parte il top di gamma. A metà tra i due abbiamo un Falcon X6, è una macchina senza un pannello frontale pensata più che altro per risparmiare qualche soldo nei casi in cui va installata in impianti dove non c'è operatività, quindi postazioni remote dove la necessità di un display frontale è molto relativa. Vedremo poi dopo che di fatto ci sono diversi modi di controllare la macchina per cui il pannello frontale permette un'operatività immediata se uno non ha nessun ausilio, un PC, un tablet, un telefono, uno smartphone, ma tutto è gestibile tranquillamente anche da pannello frontale o da software. Dicevo, ultimo moderno sviluppo basato su DSP, in realtà su questa macchina non c'è solo la parte DSP ma include anche un sistema operativo evoluto, quindi l'intelligenza, l'audio è trattato dagli DSP e l'intelligenza è sviluppata sul sistema operativo Linux che gira sul nostro apparato. Direi una gamma di connettività I.O. come non ce ne sono altre nelle gambe precedenti e assolutamente al top anche comparata ad altri prodotti presenti sul mercato e parlerei adesso, lascerei la parola a Christian che entra un po' nel dettaglio di tutte le funzioni, ingresso, uscite e le caratteristiche del processore audio. Buongiorno a tutti, allora cominciamo con il processore. Il processore appunto, questo Falcon X7, ad oggi io spiegherò il Falcon X7, poi dopo vi spiegherò effettivamente le differenze che ci possono essere tra un Falcon X5 e un Falcon X7, alcune funzionalità come appunto diceva precedentemente Enrico che non sono presenti sul modello X5. È anche vero che qualora uno anche nel tempo si accorgesse che queste funzionalità non presenti sul modello fossero necessarie per appunto per nuove funzionalità che magari l'emittente avesse bisogno, è sempre possibile eventualmente un aggiornamento e quindi riportare ad avere le stesse funzionalità per cui nulla è perso comunque anche facendo una scelta su un X5. Allora innanzitutto che cosa c'è da dire? Che questa macchina allora deriva dal precedente Falcon XT-VS-E3i, quindi abbiamo una base, visto che comunque partiamo da una base di processori che comunque aveva già raggiunto sicuramente un significante livello qualitativo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di aiutare in questo caso l'utente nel settaggio e nel fornire più preset all'utente in modo tale che fosse più semplice appunto arrivare si può dire all'equalizzazione desiderata. Oltre a questo cos'è che abbiamo aggiunto? Grazie alla potenza del, quindi abbiamo aumentato il numero di DSP, quindi abbiamo moltiplicato si può dire per 4 volte la potenza della precedente macchina è stato possibile che cosa? Aggiungere ad esempio funzionalità legate alla banda per cui la macchina può processare contemporaneamente non solo un processo per i 15 kHz ma anche lavorare effettivamente sopra un processo per il 20 kHz, quindi avere contemporaneamente sia un'uscita idonea all'FM ma anche per un'uscita idonea tipo al DAB o eventualmente utilizzare l'uscita per fare uno streaming audio. Per cui queste sono sicuramente una serie di funzionalità interessanti che sono state aggiunte. Oltre a questo abbiamo aggiunto appunto come parlava precedentemente Enrico un'interessante interfaccia web che permette quindi una gestione totale della macchina senza appunto dover installare alcun tipo di software. Allora ritornando un attimo alle funzionalità e alle news che ci sono all'interno di questa macchina che cosa troviamo? Troviamo innanzitutto la possibilità appunto di gestire il segnale ITUBS 412 per cui laddove fosse necessario essere come si può dire conformi a questa normativa la macchina lo è. Può fare un processamento ITU 1770 per cui può essere possiamo fare esempio uno streaming essendo conformi alle normative tipo l'R128 utilizzando l'ITU 1770. Oltre a questo appunto parlavamo della possibilità quindi di generare un'uscita che sia analogica che sia digitale idonea eventualmente a 20 kHz quindi a banda piena per poter appunto alimentare eventualmente altre tipologie di sorgenti. Come si diceva appunto inizialmente che cos'è che è stato fatto? È stato studiato, allora questa è l'interfaccia appunto che ritroviamo sull'apparato, è stato sicuramente investito tantissimo tempo sull'interfaccia perché l'interfaccia è quella che si può dire permette all'utente direttamente di configurare l'apparato per cui abbiamo appunto un'interfaccia di tipo web e questa interfaccia è come si può dire scalabile quindi a seconda delle dimensioni dell'apparato che la cerca di riprodurre automaticamente la macchina, allora ci stiamo loggando all'interfaccia ed ecco siamo appunto all'interno. È adattiva. È responsive come si suol dire quindi automaticamente a seconda delle dimensioni del mio monitor quindi se anch'io l'andassi a ridurre la macchina appunto mi permette di configurare i moduli di visualizzazione, li posso togliere e mettere quindi anche qualora io avessi proprio un display tipo uno smartphone notevolmente piccolo ecco mi sarebbe comunque permessa la gestione di tutte le funzionalità. Soprattutto lato installatori, manutentori, quando si è poi nel sito trasmissivo si può disporre di pannelli portatile, tablet o differenti dispositivi quindi abbiamo lavorato particolarmente su rendere fruibile, accessibile e leggibile l'interfaccia su qualsiasi dispositivo. Allora ritornando di nuovo alla nostra interfaccia come dicevo precedentemente allora grande lavoro è stato fatto sui preset, infatti abbiamo appunto aggiunto tutta una serie di preset che troverete all'interno dove oltre che avere appunto una immagine associata che ricorda esattamente la tipologia del preset selezionato e quindi ci sono anche differenti come si può dire compressioni, differenti colori legati appunto ad esempio prendiamo il primo che comunque general purpose ci ritroviamo di fronte a un general purpose più o meno compresso e più o meno con effetti per cui qualora ritrovassi effettivamente il preset, i miei factor preset che appunto soddisfa le mie esigenze sicuramente posso anche trovare delle varianti di quel preset più o meno compresso o più o meno con effetti. Direi che abbiamo previsto 60, aggiungerei circa sono 60 preset con cui esce già la macchina, sempre la finalità è quella di rendere la macchina plug and play la rivo, la collego, la installo e suona già e già posso andare a scegliere l'audio che più rappresenta al timbro della mia stazione. Ma non solo, in questi 60 preset sono di fatto 10 famiglie di preset che vanno da general purpose quindi da un preset generico a declinazioni più specifiche per il rock, per l'ambiente, insomma per le varie tipologie di mood che si vuole rendere o che caratterizza le radio e ciascuna di queste 10 famiglie ha chiamiamoli 6 differenti sapori in cui giocando con compressori, espansori, abbiamo tentato già di mettere a disposizione un pacchetto che sia plug and play. Da questi poi molto rapidamente qualsiasi radio... Introducendo piccoli appunto, trovando effettivamente il preset che soddisfa o si avvicina si può dire alle richieste comunque dell'emittente, a questo punto si possono andare ad applicare piccole modifiche e salvare quindi i propri preset. L'entente può salvare, ci sia spazio per altri... No, è infinito, la possibilità dei preset è salvabile, quindi noi abbiamo la possibilità tramite lo user preset di poter andare in questo caso a salvare il preset andando a fare piccole modifiche che appunto andremo successivamente a vedere. Quindi abbiamo possibilità di salvataggio, grandi preset e semplicità appunto nel muoversi e nel settings. Altra cosa che sicuramente appunto come stavamo dicendo precedentemente si è lavorato è sicuramente sull'interfaccia e nella facilità di andare a trovare ciò che si vuole andare a modificare perché il grande problema di tutte le macchine che ad oggi sono presenti sul mercato è più le macchine diventano complesse più è difficile sicuramente il loro settaggio. E appunto visto che stiamo parlando di una macchina come diceva il collega precedentemente che ha comunque un changeover, un RDS, un processore, un codificatore, tante funzioni all'interno, allora cosa che abbiamo fatto? Abbiamo studiato un'interfaccia graphic view che permette tramite dei pannelli di poter andare a vedere il routing del segnale e direttamente andando a cliccare ogni singolo parametro automaticamente si aprirà il relativo menu e si potrà anche direttamente vedere qual è il routing, come sono settati tutti gli interruttori, quindi gli switch interni, le matrici interne della macchina in modo tale da capire il perché un segnale non sta arrivando o per quale motivo ci sono delle problematiche che impediscono appunto l'emissione del segnale corretto. Allora, che cosa abbiamo all'interno della nostra interfaccia e quali sono i nostri moduli appunto che vediamo? Allora, ritorniamo un attimo a noi, giusto un attimo per capire esattamente quali sono le funzionalità di macchina, appunto abbiamo una sezione di ingresso, una sezione di processamento audio dove appunto si vedono tutti i suoi parametri, abbiamo una sezione di audio outs dove appunto troveremo ingressi audio analogici, ingressi audio digitali, come opzione abbiamo appunto anche il Dante per cui possiamo anche ricevere un IOIP Dante e generare automaticamente anche un'uscita Dante, abbiamo le uscite MPX e poi abbiamo una sezione di monitor. Giusto per semplificare è possibile, quindi potete notare direttamente sulle interfacce che ci sono questi ingranaggi, direttamente cliccando l'ingranaggio automaticamente accedo alle funzionalità appunto che sono riportate sullo schermo. Oppure posso, come fatto precedentemente, andare in una pagina che viene espansa e mi porta direttamente graficato tutto il routing del mio segnale. Questa è una funzionalità che trovo sia nell'ingresso come nelle uscite, nella sezione MPX ed anche nella sezione appunto di preascolto che sarebbe il mio monitor out appunto perché per poter ascoltare la macchina anche in questo caso sono stati investiti sicuramente grandi potenzialità della macchina, quindi è possibile ascoltare la macchina tramite le cuffie, è possibile ascoltare la macchina tramite le uscite audio oppure anche utilizzando la possibilità dello streaming. Quindi è possibile anche un settaggio totalmente fatto in modo remoto. Diciamo che questi schemi qui è importante avere un'anteprima perché fanno capire che sia che trattiamo degli ingressi, sia che trattiamo delle uscite, sia che trattiamo dell'ascolto, è possibile prelevare, ascoltare, controllare il segnale in qualsiasi delle fasi di processamento e non solo, anche vedere lo stato sia degli ingressi e delle uscite perché fra poco vedremo tutte le possibilità di connettività che ha la macchina, quindi ingressi analogici, digitali eccetera. Corretto, allora ritorniamo nuovamente al nostro ingresso e quindi cos'è che possiamo dire? Perché la macchina di cosa dispone? Dispone di ingressi audio analogici, allora magari stacchiamo la prima macchina. Abbiamo quindi una macchina che dispone di due ingressi digitali, questi ingressi digitali sono il primo, è esclusivamente dedicato all'audio, il secondo può essere sia audio ma anche MPX over Aesebu, per cui abbiamo un MPX digitale che può eventualmente entrare all'interno dell'apparato, abbiamo due uscite digitali, sempre questi indipendenti per cui posso assegnare i segnali desiderati, un ingresso di tipo analogico, un'uscita analogica, due ingressi ausiliari appunto per segnali MPX, RDS o SCA che si voglia, e due uscite MPX indipendenti. Oltre a questo, come dicevamo precedentemente, c'è la possibilità dell'opzione Dante che mi permette di avere anche un ingresso audio over Dante, un'uscita audio over Dante e un ingresso e un'uscita MPX over Dante. Quindi direi che a livello di connessione sono veramente tante. Da aggiungere sempre per quanto riguarda il Falcon X7, anche le opzioni di input di streaming compresso, per cui abbiamo la possibilità di ricevere due IP streaming da due differenti sorgenti in differenti formati, sono appunto disponibili direttamente sull'Ethernet della macchina. Oltre a questo, visto che siamo sempre nel pannello, nel retro della macchina, appunto cos'è che troviamo? Troviamo un'interfaccia GPIO, un'interfaccia seriale eventualmente per flussi di RDS, e appunto una porta USB che ci permette eventualmente di collegare chiavette, di memorizzare delle cose o eventualmente riconfigurare delle Ethernet. Troviamo sempre anche un foro dove è infilata una SD card. Questa SD card, qualora inserita, permette, la macchina viene sempre provvista di SD quando viene fornita, diciamo che questa SD che è accessibile permette il salvataggio di tutti i dati della macchina, ma questo viene eseguito in modo automatico, per cui in caso di necessità di sostituire la macchina per svariati motivi, rimuovendo l'SD, prendendo un'unità completamente nuova e non configurata e appunto inserendo la nuova SD, la precedente SD all'interno della nuova macchina, è possibile farne un clone, quindi non perderemo alcun tipo di dato all'interno della macchina. Sì, lo stato della macchina viene salvato automaticamente, quindi quando si cambiano dei parametri e si approva e si conferma la modifica di parametri, la macchina salva sempre il suo stato sulla memoria SD. Per cui di fatto è sempre possibile recuperare la configurazione o richiamare una configurazione precedente. Corretto. Lo vedremo ancora dopo nel corso delle... Benissimo, visto che siamo ancora direttamente sulla pagina degli ingressi, che cos'è che troviamo? Troviamo effettivamente un changeover di cui prima parlava Enrico, un changeover che ci permette la selezione automatica degli ingressi. Ogni ingresso è totalmente indipendente e configurabile, per cui possiamo già definire anche le tempistiche con cui questo segnale è ritenuto valido. Tutte queste sono totalmente indipendenti. Quindi nella sezione di ingresso vengono validati i segnali che arrivano, quindi mancanza o presenza di audio, quindi c'è la possibilità di rilevare silence detector per rilevare che manca l'audio sulla sorgente A e commutare automaticamente sulla sorgente B. Questo permette anche che non è che viene fatto l'audio detecting solo in, come si può dire, in presenza di un fault, ma in contemporanea tutte le quattro sorgenti vengono sempre sorvegliate. Questo ci permette di sapere magari anche quando una sorgente di backup non è in onda, ma è comunque difettosa e questo permette appunto all'apparato di informare direttamente il tecnico che l'apparato, che la sorgente di backup non è performante e quindi ha delle microinterruzioni problematiche di qualche natura. Giusto un attimo per far capire ecco la qualità appunto di questa analisi, così è stata anche inserita una nuova funzionalità che permette di riconoscere quando una sorgente non è performante. Ad esempio immaginate di installare un apparato di ricevere un segnale tramite satellite, quindi c'è una digitalizzazione, mettiamo ad esempio che ci sia del ghiaccio sopra la parabola, il segnale non è qualitativo, quindi si formano dei micro buchi all'interno della trama audio e questo fa in modo tale che un normale audio detector non farebbe il detect della sorgente, ma direbbe che la sorgente è valida, al contrario invece abbiamo una nuova funzionalità che può essere abilitata o disabilitata e questo permette appunto il riconoscimento di micro buchi nell'audio. Direi che possiamo in qualche modo, come potete notare, abbiamo anche un changeover che ci permette comunque di switchare tra le sorgenti IP stream o addirittura internamente abbiamo anche un file player, per cui in caso proprio non vi sia alcuna sorgente più disponibile, la macchina potrebbe automaticamente commutare sopra a un player interno che posso effettivamente, dove posso registrare tutti i file audio che voglio. Ecco, questa sezione di changeover automatico, quindi silence detector e changeover, è una delle due o tre caratteristiche che differenzia il modello X7 dal modello X5, ossia sul modello Falcon X7 questo changeover automatico è presente di serie. Nel modello X5 sono sempre disponibili tutti gli ingressi, ma non vi è la commutazione automatica in caso di sorgente ausiliaria non valida. Corretto. Cioè permette di instradare diversi segnali manualmente, per cui io passo dall'ingresso del satellite a quello analogico o ESEBU e viceversa. Manualmente? Manualmente. Ok. O tramite, eventualmente, commutazioni che possono essere tramite... O comandate da GPI. Restapi o GPI o così via. Allora, passiamo direttamente nella sezione, giusto un attimo per avere un flusso, nella sezione audio, come dicevamo precedentemente, che cos'è che troviamo? Troviamo un doppio, un AGC doppia banda, appunto, un enhancer, un compressore e un limiter. Tutti questi parametri, appunto, sono o accessibili direttamente dall'interfaccia tramite questi bottoni, oppure direttamente è possibile accedervi tramite il menu. Allora, per quanto riguarda l'AGC doppia banda, è sicuramente, l'AGC è una delle funzioni principali, appunto, che aiuta il processore a lavorare nel migliore dei modi, e appunto, che cos'è che troviamo? Troviamo tutti, esattamente, 12 parametri che ci possono permettere di ottimizzare il funzionamento dell'AGC. Quindi si parte da un drive, un attack e un release, per quanto riguarda i parametri fondamentali del nostro AGC, abbiamo un gate threshold, e quindi nel momento in cui viene congelato effettivamente il funzionamento della macchina, dopodiché abbiamo, nel momento in cui la macchina arriva, si può dire, al suo zero, al valore interno di lavoro, abbiamo appunto una funzionalità dove viene ridotta la velocità dell'AGC e delle sue, appunto, perché ci troviamo in una zona di lavoro. E appunto qua abbiamo tutti i parametri che ci permettono, appunto, di settare tutte queste cose. Oltre a questo abbiamo la possibilità di avere un accoppiamento tra le bande, quindi nel doppia banda, e un accoppiamento tra il canale left e right. Ti dirò un po' solo un secondo, ho omesso di dire all'impartenza che per chiunque volesse intervenire o ha delle domande può sfruttare la chat di YouTube, ti ho interrotto a tal proposito perché comunque la stanno già utilizzando e ho una prima domanda. La domanda è la seguente, come convivono i segnali per l'FM e quelli per il DAB? Allora, la domanda è sicuramente molto interessante e vi spiego. Allora, una volta generato il processo, quindi l'equalizzazione, diciamo, diamo forma, si può dire, al nostro audio, potete vedere, io adesso ho switchato giusto un attimo per fare riferimento direttamente all'audio output, quindi io vado nel grafico delle uscite per farvi capire. Effettivamente che cos'è che ci troviamo? Una volta generato il nostro segnale, abbiamo differenti uscite, quindi abbiamo un'uscita wideband, per cui è un'uscita a larga banda. Quest'uscita a larga banda mi permette quindi un 20 kHz, posso prelevare questo segnale o per un ascolto diretto o eventualmente per mandare, appunto come potete vedere, questo segnale può essere indirizzato sull'uscita digitale 1, digitale 2 o analogico. Ma nello stesso tempo, contemporaneamente, lo stesso segnale cosa avviene? Viene processato a 15 kHz, quindi viene ridotta la banda, aggiunta la preenfasi dinamica, quindi viene ridonio alla trasmissione FM e nuovamente abbiamo un ulteriore modulo che ci fa anche, che cosa? Ritarda il segnale FM. Questo che cosa ci permette di fare? Ci permette di allineare il sistema, qualora io voglia generare un segnale sia per il DAB che per un segnale, contemporaneamente anche un segnale per l'FM, mi permette di avere, innanzitutto, la risposta in frequenza idonea ai due sistemi di trasmissione, ma oltretutto direttamente con il mio delay posso esattamente andare a regolare il delay che c'è tra il mio DAB e il mio sistema FM, in modo tale che quando l'autoradio commuterà tra il segnale DAB e il segnale FM per, ad esempio, assenza di campo, o segnale sicuramente non ottimale, automaticamente si ritroverà l'audio sincronizzato, quindi senza alcun tipo di delay. Quindi la macchina dentro ha un buffer che permette di gestire le differenze latenze del mezzo FM di quello DAB e permette di arrivare con lo stesso processamento, quindi stesse equalizzazioni, stesso timbro dell'audio, si arriva alla fine dove però i due segnali sono in sync. Esattamente, sì, sulla parte di ricezione i segnali risultano essere in sync. Ritorniamo nuovamente al nostro processamento, appunto, come dicevo abbiamo appunto una sezione di AGC, una sezione di enhancer dove appunto abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare la funzione per dare appunto più stereofonia, è possibile anche, legato all'enhancer abbiamo anche uno speech detector per cui in caso la macchina rilevasse presenza di un parlato automaticamente viene chiuso, si può dire, questo tipo di funzionalità, oltre a questo abbiamo un pre-process equalizer che ci permette di dare un pre-processamento prima di darlo in pasto alla parte di compressori, che appunto andiamo a vedere adesso. La parte di compressori è comunque un 5 bande, ok? È possibile, abbiamo studiato un parametro nell'ottica di facilitare il funzionamento e non dare tutti gli attachi release direttamente di ogni singola banda, ma automaticamente utilizzando questo multi-band process type ci permette appunto di definire quale deve essere il comportamento della macchina, per cui se deve essere più protettivo o più aggressivo a seconda appunto del tipo di audio che si ha intenzione di trattare. E appunto dando questa tipologia di comportamento automaticamente la macchina si comporterà, varierà appunto i tempi di attacco e di rilascio, ma mi lascerà la possibilità di definire sia il drive che il triscio. Questo mi fa in modo di definire sia quanto voglio caricare la mia, quanta importanza voglio dare, le mie varie bande appunto per dare una timbrica sicuramente differente. Oltre appunto alla parte dei compressori che mi permettono appunto di dare questa equalizzazione, ho comunque la mia parte dei limiter, che cosa mi danno? Mi fanno, mi aumentano sicuramente sia l'effetto appunto di limiting, quindi di compressione e allo stesso tempo troviamo anche all'interno di questi il super basso, quindi posso, come si può dire, enfatizzare tramite il limiter e appunto questa super basse, enfasi di basso, posso dare sia aumentarlo, come allo stesso tempo posso lavorare direttamente sul brilliance, quindi mi trovo in una sezione dove posso definire quanta densità dare al mio segnale e quanta, si può dire, effetto lasciare appunto che voglio assegnare alla mia equalizzazione. Oltre a questo, cosa che è stata studiata? La sezione appunto di equalizzazione per il preset, oltre a riportare un'immagine che ricorda il tipo di preset che stiamo facendo, abbiamo anche 5 meter che ci danno un'indicazione di quale tipologia di preset stiamo utilizzando e questi meter a seconda appunto dell'effetto richiamato, qualora sia un factory preset o sia direttamente uno user preset, automaticamente viene dato tramite appunto questi meter un'indicazione di quanto è dinamico questo preset, quanto è denso, quanto è presente, quanti bassi ci sono e quanti parte acuta è presente, quindi direttamente potete vedere a fianco il tipo di preset. Il scopo di questa sezione è una scelta rapida e veloce dei preset, perché spesso a volte anche il tuning, quindi l'affinamento della parte di preset viene fatta in tempo reale, mentre si è in onda, mentre si sta ascoltando, per cui quando ci sono tanti preset è anche importante poterli rapidamente distinguere e a tal proposito è stata fatta una sezione ad hoc che permette la comparazione, quindi quando comincio a modificare un preset e ho bisogno di percepire la differenza rispetto a quello precedente, mentre sono in ascolto posso in tempo reale apprezzare la comparazione tra un preset e l'altro. Corretto, allora è appunto stato studiato un tasto particolare che trovate appunto direttamente sulla main page, appunto che permette direttamente la comparazione tra preset, quindi all'interno di ogni preset, posso dire qual è il preset a comparare, per cui questo ci può aiutare effettivamente a sentire prima e dopo com'è la mia equalizzazione, che differenze ci sono, dove effettivamente sono andato a toccare. Oltre appunto a questa sezione salterei direttamente sulla sezione di uscita che in parte abbiamo già visto e adesso vado a spiegarvi. Abbiamo appunto, come dicevo precedentemente, due uscite digitali, un'uscita analogica di tipo audio, oltre al Dante che risulta essere modulo opzionale. Abbiamo appunto il segnale che ci arriva direttamente dal processamento che è appunto rappresentato da questa sezione che trovate sulla sinistra, il segnale viene quindi generato inizialmente idoneo a un processo, si può dire ad essere ascoltato, processo 20 kHz e poi viene tramite diversi moduli, viene generato il segnale idoneo per l'FM e un segnale idoneo per l'FM ritardato di una parte, si può dire, di una componente che voi andrete a definire in modo tale da mettere in sync il segnale audio, il segnale DAB con il segnale FM. Oltre a questo che cos'è che abbiamo appunto? La possibilità di definire qual è il comportamento delle uscite digitali, definire le uscite digitali se il nostro segnale deve o non deve andare sulla parte, si può dire, Dante oppure deve essere direttamente collegato al nostro Aesebu. Abbiamo anche la funzionalità per quanto riguarda il secondo digitale per poter essere direttamente, per andare a prendere un MPX e poterlo mettere direttamente in onda. Ok, passerei più rapidamente perché poi il tempo stringe. Passiamo un attimo alle varie parti di connettività, gestione e controllo, un po' velocemente perché poi dobbiamo passare all'altra macchina. Allora, abbiamo direttamente, allora, la connettività, la macchina appunto come dicevamo precedentemente è possibile, la possiamo collegare tramite appunto reti, la rete è normale quindi è pagina web, la macchina dispone comunque di un FTP server per l'upload appunto di informazioni, ad esempio dei file audio. Abbiamo la possibilità ad esempio di scaricare eventualmente i log di macchina, abbiamo la possibilità di utilizzare in questo caso la connettività, ad esempio avremo nel caso del Dante, abbiamo un'ulteriore seconda rete indipendente a cui è possibile collegarsi. Aggiungo sempre rapidamente il 1, abbiamo una porta USB qui davanti, la macchina viene sempre corredata di una chiavetta che genera un hotspot per cui chi si dovesse reccare impostazione ha bisogno di collegarsi alla macchina e non conosce gli indirizzi IP eccetera, si genera uno spot che permette la connessione immediata tra un PC, un tablet alla macchina. Questo avviene poiché solitamente un telefono non ha una presa RJ da potersi collegare alla macchina, quindi l'hotspot wifi viene creato appunto per questo motivo. Possibilità di snapshot di macchina, salvataggio sulla SD, esportazione o importazione di configurazione della macchina anche tramite PC, quindi collegati in internet e aggiornabilità, quindi all'uscita di nuovi firmware e versioni di macchina piuttosto che all'aggiunta di nuovi moduli. Oggi non è questo l'oggetto dell'incontro, c'è anche la sezione dell'RDS, cioè su questo processore può anche ospitare un RDS, un encoder RDS di altissima fascia che sarà descritto poi nella macchina successiva, nel Tiger e tutte queste funzioni possono essere accorpate in una macchina sola per ottimizzare l'architettura e l'allestimento di un sito trasmissivo. Quindi tutto all'interno della macchina, tutto in dominio digitale, quindi massima qualità e controllo e gestione del segnale senza dover entrare e uscire tra un apparato e l'altro. La macchina ha anche la possibilità di tutta la parte di rete piuttosto evoluta, perché gestiamo l'SNMP, quindi possibilità di collegarla a sistemi di gestione delle reti, NMS, quindi Network Management System. Direi quindi che tutta questa parte trae grande vantaggio dal fatto che all'interno abbiamo un sistema operativo evoluto che espone tutte le più moderne interfacce di comunicazione. La macchina dispone anche di tre indirizzi di rete a cui ci si può sempre collegare, tre IPv4, tre IPv6, abbiamo l'NTP server, insomma è sicuramente una macchina, come posso dire? Direi che nella sua categoria si colloca direttamente al top del settore dei processori audio. Aggiungo un paio di informazioni economiche, anche un ordine di grandezza dei prezzi, il Falcon X5, che adesso è questa macchina qua sopra, a listino si trova su circa 1990 euro, il Falcon X7 e parto volontariamente dal top è a circa 2.999 euro, la sua macchina gemella che è l'X6, che ha esattamente le stesse funzionalità, differisce solamente per il pannello frontale, si attesta a circa 2.790 euro. Tra le varie opzioni che ci sono, 395 euro per l'encoder RDS e solo quello, vedrete fra poco le caratteristiche che ha l'RDS che si può aggiungere alla parte di processo. E direi che oggi per lo scopo di questo incontro sulla parte del processore abbiamo terminato, direi che se avete ulteriori richieste potete tranquillamente rivolgervi alla mail sales at axeltechnology.com, contattare il nostro ufficio commerciale o scriverci direttamente nei modi in cui preferite. passerei a questo punto invece alla famiglia Tiger, ossia, scusate, eccoci qua, come vedete la foggia della macchina ha diversi parti in comune costruttivamente, per cui potremo nel corso di questa presentazione del Tiger E3 ed E5, sono due macchine anche queste, come definirle, questa è una macchina che noi internamente abbiamo chiamato una macchina 7 in 1, ossia assolve le funzionalità che normalmente fanno differenti apparati installati nel sito trasmissivo, quindi in primis il Tiger è sicuramente un codificatore stereo di altissima fascia, sicuramente un modulo RDS di altissima fascia, incorpora encoder e decoder IP, incorpora una parte di changeover piuttosto evoluta che eredita moltissime delle funzioni che abbiamo accennato prima sul processore ed è una macchina fondamentalmente da sito trasmissiva, particolarmente ideale dalla piccola radio, ma soprattutto trova una grande ottimizzazione e flessibilità nei network, quindi permette di equipaggiare radio di grandissime dimensioni, reti di grandi dimensioni, di fatto questa macchina è già installata su diversi anche network italiani e direi che mi permetto di dire che non ha rivali nella sua categoria, di fatto definisce un nuovo segmento di mercato. Detto ciò, Christian, passiamo a un attimo a una rapida carrellata di tutto quello che si può fare, saremo rapidi perché di fatto la presentazione diventa parecchio lunga se entriamo nel dettaglio e ti passo la parola. Benissimo, grazie. Allora, come potrete notare l'interfaccia, allora è stato scelto, l'interfaccia web ha, si può dire, lo stesso stile della macchina precedente, quindi in realtà nasce prima Tiger, poi nasce Falcon, per cui tante funzioni che abbiamo visto precedentemente le troviamo di nuovo sopra il Tiger. Tiger effettivamente, come diceva Enrico, è una macchina che principalmente aiuta, cioè nasce per le installazioni per i siti trasmissivi, ma non solo per quelli, perché in realtà la macchina va benissimo anche montata in studio, in quanto tutte le sue funzionalità risultano essere utili, magari non tutte al 100%, perché magari a volte se ne utilizzano alcune e non altre, ma sicuramente permette di risolvere tutte quelle problematiche all'interno, si può dire, di siti trasmissivi o appunto anche test di rete. Per quale motivo dico questo? Perché appunto abbiamo aggiunto man mano tutte le funzioni che erano necessarie in un passato, sarebbe stata necessaria aggiungere tanti box audio, quindi da un changeover, da un changeover MPX, un changeover audio, a un encoder IP, a un decoder IP, quindi immaginate appunto di avere ad esempio un segnale che vi arriva direttamente sulla montagna, a volte ci sono segnali analogici, a volte segnali digitali, a volte si hanno dei transiti MPX, a volte non si hanno questi segnali, ma si ha uno streaming audio e a volte non si ha nessuno di questi segnali e magari si è proprio in assenza totale di audio e quindi che cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo appunto messo in piedi un changeover audio che permette appunto di selezionare tutte le sorgenti e le tipologie audio e quindi possiamo commutare tra le varie sorgenti, oltre a questo, quindi analogico, digitale che sia, oppure abbiamo all'interno un changeover MPX, per cui questo ci permette ad esempio di fare che cosa? Di passare da un segnale, ad esempio da un transito MPX che magari arriva da un'altra, dalla nostra rete e ci permette di commutare eventualmente su un segnale, da uno streaming audio e generare automaticamente in loco un segnale MPX. Insieme a tutto questo comunque la macchina, quindi abbiamo un generatore MPX, un encoder RDS molto performante e un RDS dinamico, questo RDS dinamico che appunto vediamo espresso nella prima pagina, ci permette di fare veramente tantissime cose, possiamo prendere informazioni o statiche all'interno dell'apparato o addirittura l'apparato è in grado di andare a prendere le informazioni all'interno di una rete, quindi possono, è in grado tramite il protocollo Samba di andare direttamente dentro alla vostra, dentro una folder, andare a prendere i dati che arrivano direttamente dalla regia automatica. Sì, la finalità di questa funzionalità, quindi di avere un sistema operativo evoluto permette di accedere alla rete LAN dell'emittente e andare a prelevare dalle regie automatiche titolo, autore, canzone e altri dati che vengono poi iniettati nell'RDS. Abbiamo appunto una domanda che ci chiede appunto come è possibile alimentare l'RDS dinamico. L'RDS dinamico, e abbiamo appunto studiato una modalità che si chiama Extended Mode, può essere alimentata in diversi modi e adesso vi vado a spiegare quali. Allora, innanzitutto ci loghiamo al nostro apparato, è chiaro che l'accesso... Sì, aggiungo, ma si vede già, insomma la macchina poi prevede gradi, livelli di accesso, accessi con diritti più o meno evoluti in base alla figura tecnica, quindi al manutentore piuttosto che all'amministratore, con diritti di modifica di uno o più moduli e sezioni del coder. Allora, siamo ad esempio... quindi si possono... allora la macchina risulta essere un RDS dinamico e posso scegliere quali funzioni rendere dinamiche e quale lasciare effettivamente statiche. Quindi cosa abbiamo? Ritroviamo all'interno dell'RDS, ad esempio della funzionalità RT, appunto perché voglio ad esempio generare titolo, autore e canzone, magari direttamente all'ergia automatica, quindi che cos'è che posso fare? Posso utilizzare o un protocollo Samba Share, quindi posso andare direttamente a prendere e abbiamo diversi formati che la macchina, che il sistema legge, quindi posso andare a leggere informazioni da un formato TXT o da un XML e abbiamo diversi formati, utilizzare il protocollo Samba oppure posso utilizzare un OECP custom, per cui ad esempio in questo caso ho uno streaming OECP già presente all'interno della mia struttura, quindi siamo compatibili. Abbiamo un Ashi Parser, per cui possiamo streamare in un formato particolare di cui forniamo il protocollo direttamente su una porta UDP le informazioni, oppure posso direttamente buttare direttamente in SNMP le informazioni, il mio autore e titolo della canzone direttamente, quindi le informazioni RT, le posso inserire direttamente sulla MIB, o addirittura che cos'è che può fare? La macchina può prendere direttamente l'RDS che arriva ad esempio da un transito, quindi da un altro RDS e posso andare a filtrare quali dati eventualmente andare a prendere da questo flusso, per cui sono in grado effettivamente di filtrare, di prendere le informazioni che mi servono. Quindi posso miscelare i dati RDS in arrivo da una dorsale, filtrare e miscelarli, e decidere cosa rigenerare e cosa invece ereditare da quelli che mi arrivano dalla dorsale. È corretto, inoltre abbiamo l'ultima modalità, giusto un attimo per capire le potenzialità di macchina, qualora utilizzassi perché un Tiger alla testa della rete potrei fare una distribuzione direttamente over IP dell'RDS, per cui posso mandare, avendo una macchina alla testa della rete, tante macchine satellite, queste macchine potrebbero ricevere le informazioni RDS direttamente tramite, oltre al flusso audio potrei direttamente inviare anche le informazioni RDS. Oltre a questo, cosa da non dimenticare, questa macchina è stata studiata appunto anche perché per chiedesse le informazioni direttamente, quindi è un sistema di monitoring. Abbiamo appunto tutte quelle funzionalità che ci permettono di capire qual è la qualità del nostro segnale che stiamo ricevendo, qual è la qualità del segnale che stiamo trasmettendo, oltre alla possibilità di inserire appunto anche l'opzione tuner. Quindi la macchina alla fine risulta essere effettivamente un all-in-one con tutte le funzioni necessarie all'interno di un sito. Di fatto può generare tutte queste informazioni, alla fine in modo consistente riprende il segnale via FM e ci dice esattamente quello che stiamo generando. È corretto. Abbiamo per quanto riguarda ad esempio anche la parte RDS per poter calibrare bene esattamente il numero dei gruppi, magari abbiamo tanti servizi a poter generare, la macchina dispone anche appunto della possibilità di vedere quanti gruppi stiamo generando a poter assegnare una priorità differente ai vari gruppi. Ecco, tramite questo è possibile fare tutto. La macchina risulta essere fully WCP, per cui la macchina può essere lasciata standard oppure si possono in qualche modo andare a sbloccare direttamente alcune funzionalità appunto definendo questa modalità dinamica. Quindi di fatto la macchina in buona sostanza alimenta il trasmettitore con un flusso MPX, genera l'RDS, può fare la parte di monitoring, può ricevere in ingresso una molteplicità di tipologie di segnali, quindi analogico, digitale, Dante, audio over IP o streaming IP e di fatto, ripeto, tipicamente tutte queste caratteristiche oggi si trovano in tanti oggetti, a volte anche di costruttori differenti, in questo caso sono combinati in una macchina sola. Vorrei ricordare anche un'altra funzionalità che è appunto l'encoding di audio direttamente, quindi c'è la possibilità di streammare l'audio in modo tale che se io installo questo apparato in modo remoto ne posso direttamente dalla mia sezione monitor farne direttamente un ascolto premendo questo tasto. Per cui, ed è anche questo cosa mi permette, mi permette non solo di ascoltare effettivamente tramite il decoder interno la qualità del segnale MPX che ne sto facendo il broadcast, ma allo stesso tempo posso eventualmente andare ad ascoltare, entriamo nella sezione di monitor, posso andare direttamente dal mio sistema di streaming, posso andare ad ascoltare tutte le singole sorgenti, per cui qualora avessi anche una problematica su una sorgente la posso anche valutare dal punto di vista qualitativo audio, effettivamente sentire quali sono le problematiche e per quale motivo il sistema l'ha riconosciuta non idonea alla messa in onda. Tutto questo è possibile farlo contemporaneamente alla messa in onda senza andare a toccare assolutissimamente appunto il segnale che è in onda. Vorrei ricordare inoltre un'altra cosa molto importante per quanto riguarda tutte quelle macchine di rebroadcast del segnale o di generazione del segnale, cosa molto importante è il limiter, il limiter audio che troviamo presente all'interno di questa macchina. Perché il limiter audio? Perché quando noi prendiamo un segnale direttamente lo affidiamo al satellite o lo affidiamo a un sistema di encoding di streaming audio, questo nel momento in cui viene decodificato vengono generati degli overshoot che non hanno fisicamente, come si può dire, un peso audio, ma generano effettivamente dei picchi che a volte, dati in pasto direttamente a un clipper, generano, si può dire, rumori all'interno dello spettro. Questo tipo di limiter appunto, e ci sono diverse modalità che sono state aggiunte all'interno della macchina, ci permettono cosa? Di avere un limiter che dal punto di vista ci permette non tanto una compressione, ma è sicuramente un modo di andare a rimuovere questi overshoot indesiderati e allo stesso tempo non andare a toccare qualitativamente l'audio che è stato precedentemente processato dal nostro processore. Ok, questa macchina sta trovando particolari applicazioni, ora a parte altre parti del mondo dove non si usano i ponti per fare il collegamento, l'STL studio al sito trasmissivo, quindi si utilizzano da anni in tanti paesi all'estero i codec, prima in passato ISDN e più recentemente IP, per cui ecco che un'altra applicazione del Tiger è quella di essere usato contemporaneamente come codec in studio per prendere il segnale in uscita dal processore, iniettarlo, trasmettere, streammare il segnale in IP verso il sito trasmissivo, decodificarlo e poi iniettare il segnale nei trasmettitori. Questo permette... Che fra l'altro questo è un trend che sta prendendo piede anche nei nostri paesi dove ormai se possibile è bene avere anche una connessione alternativa dorsale terrestre o dorsale satellitare, ma avere internet impostazione, fenomeno che sarà sempre più diffuso. Questo permette anche, come dicevo precedentemente, oltre che lo streaming dell'audio, quindi una macchina usata come encoder, una macchina utilizzata come decoder, ma allo stesso tempo, visto che la macchina ha la possibilità anche di fare un multicast, è possibile anche distribuire su più macchine, quindi non è sempre un punto a punto. Ricordiamo anche che all'interno di questa macchina esiste un decoder, sia RDS che audio, per cui se io dovessi fare... se si avesse la necessità di realizzare appunto un trasferimento di tipo MPX, queste macchine possono essere utilizzate anche per quello, perché la macchina direttamente, l'encoder alla testa della rete, può essere alimentato da un segnale MPX, questo fa in modo tale di decodificare l'RDS, decodificare la parte, si può dire MPX, con un decoder realizzato da DSP, quindi altamente qualitativo, ne faccio lo streaming e poi lo rigenero. Questo che cos'è che permette? Permette, al contrario di normali apparati, che a volte inviano, si può dire, l'audio punto a punto, e ci sono o sistemi appunto lineari, che utilizzano tantissima banda, o sistemi con compressioni molto blande, ma capite che parliamo di un segnale a 100 kHz, quindi pur andandolo, pur riducendo in qualche modo, comprimendo il segnale, sicuramente a cui si parla sempre di risultati oltre il megabit, quindi anche se ne servirebbero appunto 5, se parlassimo di lineari. In questo caso, invece, che cos'è che potremmo fare? Scomponendo questo segnale, anche con un flusso audio, paragonabile a 256, per avere appunto una grande qualità audio, abbiamo una generazione alla testa della rete, con una massima separazione, e un utilizzo di banda notevolmente ristretto, per cui suggeriamo anche l'utilizzo del Tiger per questo tipo di applicazione. Ho una domanda, penso si rivolga a una delle sorgenti ausiliarie, quindi parla del player interno, come lo si configura, e come si possono alimentare i file audio di emergenza? Allora, l'upload audio è fatto tramite FTP, coperta da password, per cui all'interno del manuale trovate tutti i dati per collegarsi e poter caricare i file. Attualmente la gestione del file è generata tramite modulo multimedia, abbiamo sorgenti multimediali, file player, all'interno del file player abbiamo un ordinamento che può essere di tipo alfabetico, di data, o appunto generico, in questo caso è random. È chiaro che dentro non c'è un'automazione radiofonica, però ha la possibilità di compensare eventuali buchi con un audio che ovviamente non è sempre lo stesso, non parte sempre dallo stesso tempo, dallo stesso momento, ma ha delle logiche di shuffle e di... per far sì che il tampone, che il riempimento del buco sia artisticamente meno di impatto. È chiaro che potrei crearmi una scaletta mettendo direttamente una serie di numeri davanti che automaticamente la macchina seguirebbe esattamente la scaletta che io vado a realizzare. Ricordiamo sempre che questo comunque risulta essere un sistema di backup, per cui insomma non si pensa. Comunque, essendo comunque accessibile tramite FTP, è possibile aggiornarlo, sistemarlo, appunto, e tenerlo appunto aggiornato a seconda del... Anche questa macchina, quindi è una macchina con tutta la connettività, internet e il controllo remoto, come vedete, analogo a quello che abbiamo anche mostrato prima, per cui, magari mi ripeto, però, rete, protocolli, dall'UECP all'SNMP, interfacce web, connettività, anche in questo caso, la porta frontale che... Corretto. consente di generare un hotspot locale, quindi noi tutte le volte che si acquista una macchina nella confezione c'è anche la chiavetta per generare una rete wifi, un hotspot locale, per cui direi, ormai questa macchina prevede tutte le possibilità di connessione possibili, immaginabili. Corretto. Abbiamo inoltre la possibilità, come presentemente, come per il Falcon X, abbiamo la possibilità di salvare e esportare le configurazioni, abbiamo la possibilità di salvare all'interno dell'apparato le configurazioni, la macchina è divisa per moduli, per cui posso salvare anche solo il modulo dell'RDS, solo del system, solo del processamento audio, solo della parte appunto della configurazione, delle uscite, per cui posso eventualmente esportare e importare dei moduli, prenderne solo parte di essi, e quindi la macchina è veramente flessibile anche da questo punto di vista. Per esempio, per un'applicazione di un network dove ha più, o chi ha più radio, un editore con radio 1, radio 2 e radio 3, può tranquillamente copiare e condividere una porzione di settaggi e trasportarla su una macchina e sull'altra. Corretto. La macchina gestisce sempre anche utenti, appunto come dicevi precedentemente Enrico, abbiamo cinque differenti livelli di utenti, per cui chi può solamente toccare l'RDS, chi può toccare, si può dire mettere mano solamente alla parte di sistema o al trattamento audio, appunto ci sono differenti livelli e gli utenti sono infiniti, per cui è chiaro che questo si può fare e si può settare. La macchina, anche come il Falcon X, presenta anche lei la presenza dell'SD che ci permette appunto di poter copiare direttamente tutti i dati in modalità totalmente automatica, per cui anche in questo caso, qualora la macchina per qualche motivo la dovesse sostituire, mi ritrovo sempre comunque il salvataggio, quindi la copia dell'intero, si può dire, setup di macchina, la trovo sempre presente sull'SD nel retro. Le funzionalità appunto del clone le ritrovo dentro a System Tools e appunto abbiamo un'utility chiamata SD Card dove si può effettivamente clonare, generare una nuova SD, importare o esportare da SD le varie funzionalità. Aggiungo in ultimo che anche questa macchina ovviamente è aggiornabile da remoto, quindi massima manutenibilità, configurabilità, sia che si trovi in studio, sia che si trovi presso il sito. Direi che copre tutte le esigenze a noi conosciute negli anni di architetture FM e ovviamente è una macchina che viene usata anche per configurazioni molto particolari, abbiamo di recente fatto un'applicazione per le gallerie, per le autostrade, per cui veramente l'unione di Edge e Ingeover, Encoder-Decoder, generatore dell'RDS, MPX, filtri su tutti i servizi che ci sono, controlli, analisi del segnale e monitoria, ne fanno una macchina veramente singolare, ecco, che non trova, non esiste una categoria di macchine di questo genere, noi le chiamiamo appunto sette in uno. sicuramente la cosa più interessante che adesso tu dirai è sicuramente il prezzo perché abbiamo detto che ci sono sette apparati dentro a uno quindi automaticamente non costa come sette apparati. Il Tiger E3 è una macchina che vedete qui da 1450 euro circa, suo fratello più grande che si chiama Tiger E5 e che cosa ha in più? Sicuramente il display frontale ma accorpa anche il parte multimediale la parte multimediale che è un'opzione su questo con parte multimediale mi riferisco alla parte di streaming IO quindi encoding e decoding IP che è di serie sul Tiger E5 quindi dicevo il Tiger E5 è a listino a 1899 euro detto questo due sole opzioni il modulo tuner che si può aggiungere in un secondo momento e la parte multimediale che si può aggiungere come opzione singola sul Tiger E3 il modulo tuner parliamo di circa 300 euro e di circa 400 euro per il modulo multimediale detto questo vi invito a contattare sales Axel Technology sales chioccio axeltechnology.com per qualsiasi richiesta o tutti gli altri nostri metodi per mettersi in contatto con noi dal sito internet li troverete tutti direi che per oggi è tutto e vi ringraziamo arrivederci a và la a Grazie a tutti